Sono tre anni che io sto senza denti, non ho dei denti dietro, un grandissimo dentista dice mi piace farti sorridere, ti metto 80.000 euro di impianto, me paghi 30.000 euro soltanto il chirurgo. Io vado nella mia azienda, dico ci sono questi 30.000? Mi dice di sì. Dal momento che io comincio a farmi gli impianti e oggi sto qui con 15 punti in bocca, ieri arriva la notizia, non possiamo far uscire i soldi.